Una seduta di Consiglio Comunale per lo più tecnica, quella tenutasi ieri a Nocela Inferiore ed in cui si è discusso del bilancio di previsione 2019-2021. Al centro del dibattito la tassa sui rifiuti. Nelle previsioni di bilancio è stata preventivata l'eventuale, appunto eventuale, sottolino eventuale, incremento della tassazione Tari dovuta alla questione dell'emergenza rifiuti che è di qua da venire, oramai pluridichiarata, più volte dichiarata anche dal Presidente della Regione, per il fermo del termovalorizzatore di Acerra. Questo ha comportato che i comuni, anche su espressa sollecitazione del Presidente della Regione, si debbano attrezzare per trovare siti di stoccaggio o vedere come fare per smaltire i rifiuti indifferenziati. Di conseguenza prevediamo dei costi aggiuntivi che sono legati all'individuazione dei materiali, ad esempio i cassoni per l'acquisizione, la possibilità di conferire in siti privati e questo comporta un aggravio ovviamente dei costi. Possibile? Non certo. Per cui arrendicontazione significa quando sarà completata la fase dell'emergenza e se saranno valutati gli eventuali costi aggiuntivi, se ne misurerà l'entità. Come è stato riconosciuto anche da consiglieri di opposizione nel corso del dibattito, questo ovviamente avviene in maniera minima di poca incidenza, fortunatamente, sulle tasche dei cittadini, ma i comuni si trovano a dover fronteggiare un'emergenza che non hanno generato e per la quale anche per impattare poco o nulla, il meno possibile, sulle tasche dei cittadini, io sto chiedendo la massima collaborazione. Il servizio rifiuti a Nocera, anche se non è un costo altissimo che dovranno pagare i cittadini di Nocera, c'è tutto il fallimento della politica ambientale dell'amministrazione di Torquato e dell'attuale assessore all'ambiente che è proprio il sindaco Torquato. Siamo chiamati ad approvare delle modifiche, soprattutto degli assessamenti di bilancio, in virtù di attività in corso eseguite dall'amministrazione. Abbiamo approvazione di un regolamento per la definizione dei sinistri causati dalla cattiva o dalla incuria o negligenza, insomma imperizia, per la circolazione dei veicoli e quindi dovuta alla manutenzione stradale, nei limiti della franchigia di una polizza assicurativa che copre i rischi che garantisce il Comune, quindi nei limiti dei 5.000 euro. Poi il voto all'unanimità per il conferimento della cittadinanza onoraria, per quanto portato alla luce con l'indagine delle truffe IMPS, al sostituto procuratore Roberto Lenza, ai carabinieri Alberto Mancusi e Nicola Carmina Montone ed il capo della vigilanza dell'ente previdenziale Rocco Albano. Le persone indicate, in primis il dottore Lenza, sono persone che a mio avviso non meritano la cittadinanza onoraria solo per la motivazione posta in delibera, ma perché sono persone come il dottore Lenza che stanno aiutando la città di Nocella Imperio Relagro con il loro operato, perché a mio avviso con il loro compito, che è un compito diciamo, è un dovere istituzionale anche per loro, stanno dando lustro alla città, ma non è all'agro, non soltanto con una singola inchiesta, ma con un lavoro a mio avviso di certosino, molto preciso, mi riferisco in questo caso al dottore Lenza, con grande equilibrio.